E alla fine dei giorni, il primo segno comparirà nei cieli. La giustizia calerà sul mondo degli uomini. Le armate della luce e dell'ombra si scontreranno sui campi dell'eternità. Lea, stai bene, piccola mia? Non era nulla, zio. Solo un brutto sogno. Dovremmo riportarti a casa. Ma c'è ancora del lavoro da fare, se queste traduzioni sono corrette. I poteri dell'inferno potrebbero già essersi mobilitati. Bisogna avvertire il mondo della tenebra imminente. Tu credi alle mie parole, vero, Lea? Ecco l'inizio. Lascia stare, zio. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Grazie a tutti.